Primo round per la Dinamo pallacanestro Ladispoli che batte per 66-54 Ellis Roma nella finale playoff per salire in Serie D. A Ladispoli è festa grande dopo una gara vibrante, molto combattuta e un meritato successo. Scegliamo una pallacanestro, almeno fino adesso, divertente, altruista. Manca poco, è difficile, una squadra pulmiabile, gli avversari molto nuri, convinti di uscirci e ce la giochiamo mercoledì. Sicuramente costanza per la prossima partita di mercoledì fuori casa, dove sono quasi certo che riusciremo a chiudere il tutto. Mercoledì il ritorno, se vince Ladispoli è Seredì, altrimenti la bella ci sarà domenica prossima. Beh, ormai ci mancherebbe una partita, questa squadra sicuramente in casa loro sarà tutt'altra cosa. Noi speriamo di chiudere in due partite, altrimenti daremo la possibilità a questo pubblico fantastico di rivedere la terza.